amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la palla nuoto vista da vicino corriamo a ritmo sempre più veloce verso l'inizio della serie 1 2024 2025 e oggi andiamo a sondare gli umori in casa della The Hacker Bologna per questo è un immenso piacere ritrovare in nostra compagnia il tecnico dei felsini Federico Mistrangelo ciao mister benvenuto è un piacere di averti in nostra compagnia ciao Andrea piacere mio Federico io ti faccio fare un passetto indietro storico debutto europeo per la The Hacker che chiude il girone di qualification round di Euro Cup disputato ad AXS Provence con due vittorie e due sconfitte e io dico tre prestazioni più che positive forse l'unica nota stonata è la gara con il Panathinaikos che peso specifico assume nel progetto della società il girone giocato in Francia per i preliminari del secondo trofeo continentale ma sicuramente ci ha fatto comodo a livello di di preparazione essendoci la Coppa Italia devo dire che anche questo girone con cinque squadre noi abbiamo giocato quattro partite in 40 ore sembrava molto la Coppa Italia dell'anno scorso sembrava molto fatta un po così come cosa perché per me quattro partite in 40 ore non le puoi giocare però al di là di quello era un girone talmente difficile che giustamente come dici tu la partita col Panathinaikos l'abbiamo completamente sbagliata ma loro sono veramente forti quindi le due cose stanno nella stessa cosa e si è visto il divario noi che giochiamo male e loro che sicuramente erano superiori a quello che erano stati accreditati ho letto da qualche parte non so che sito ha detto che era un girone abbordabile per me non lo era però al di là di quello lo è stato bello vedere The Hacker accostata questi club storici come Hugh Panathinaikos e appunto ovviamente oltre questo purtroppo in una Coppa del genere era difficile andare come abbiamo visto per il quinto ovviamente bisogna attrezzarsi diversamente anche perché è una Coppa in cui scendono tutte quelle che scendono diciamo volontariamente o no volontariamente o no però scendono dalla Coppa dei Campioni anche squadre fortissime c'è sempre qualche squadra inserita ora lasciamo stare il caso particolare di quest'anno però c'è sempre qualche squadra che fa la squadra apposta per vincere questa Coppa ma ne scenderanno altre quindi è una Coppa praticamente per chi ci arriva da ultimo diciamo per le quinte e le seste e proprio vince la merita e non si facciano investimenti sul mercato certo è una squadra rinnovata per la quasi totalità degli effettivi la tua un po' un'abitudine della The Hacker delle ultime annate se devi descrivere la conformazione del roster di quest'anno con tre caratteristiche quali vai a scegliere sicuramente rispetto a quella dell'anno scorso è più bilanciata nel senso che eravamo molto sbilanciati sulla sulla giocava eravamo tutti giocatori da dal lato sinistro e uno solo più qualche adattato lato destro siamo più bilanciati abbiamo giocatori più duttili più veloce sicuramente e ovviamente più giovane anche perché abbiamo nei minuti giocati sicuramente spero e penso di far giocare di più i ragazzi giovani e spero e penso che mi possano dare una mano in più insomma più bilanciata anche per una panchina e titolari l'anno scorso avevamo il problema del quarto straniero che non poteva stare in acqua però erano tutti ruoli diversi sai quando hai due centri tu cambia un centro con l'altro ed è più facile gestire quattro stranieri l'anno scorso è stato un problema anche quello quindi i cambi sono dovuti soprattutto a queste problematiche che si erano create poi la squadra l'anno scorso ha dimostrato di avere uomini con gli attributi che hanno giocato al meglio delle loro possibilità siamo stati anche fortunati quindi pensare di bissare il risultato con la stessa squadra è difficile e poi ovviamente tu sai che quando le cose vanno bene i giocatori hanno più mercato e quindi c'è anche stato quel problema lì se non vuoi alzare appunto i budget conviene quasi ripartire da zero e così più o meno abbiamo fatto tenendo tre giocatori di ruolo e il secondo partiere in un campionato che sarà caratterizzato forse lotta a scudetto a parte da assoluto equilibrio quanto diventa difficile confermarsi ai livelli dello scorso anno in fondo se togli le prime due sei tentante per pochi posti per me infatti è molto difficile perché non tolgo solo le prime due che speriamo si siano avvicinate abbastanza ma sicuramente il savora si è avvicinato un po' al recco e viceversa e il breccia secondo me non andrà tanto lontano quello che ho fatto l'anno scorso perché ha fatto un cambio in porta e molto importante che è un punto interrogativo ma sono convinto che quel ragazzo farà molto bene Bovo è sicuro di questo e quindi secondo me non perderanno tantissimo il centro Boa l'avevano già un po' inserito nel loro ruolo e quindi secondo me andranno vicini a quello che hanno fatto l'anno scorso stesso discorso per l'Ortigia che poi alla fine non ha perso neanche Cassia ed è una squadra interessante da lì in poi vedo Bagarre sicuramente il Posilli può fare a meglio dell'anno scorso non c'è dubbi chi sulla carta ha cambiato molto e forse ha perso qualcosina è il Telimar che però ha perso giocatori importanti sicuramente li ha rimpiazzati anche loro ripartono con una squadra molto rinnovata e però ovviamente c'è sempre il discorso che il Telimar stupisce spesso in queste situazioni quindi non lo metterei tanto distante dalla lotta playoff lo considero outsider ma sicuramente è in mezzo a queste e allora la luce di tutte queste premesse io ti chiedo una cosa che torneo sarà secondo te la 1 2024-2025? ma secondo me sarà molto bello penso che ci sarà una classifica molto corta perché andando avanti anche le romane per esempio col fatto che sono tre romane ora stanno ravvivando ancora il mercato perché l'Olimpica ha fatto una squadra di tutto rispetto la Visnova si è rafforzata molto e da gennaio avrà anche Wooded e quindi andare in certi campi è sempre difficile per cui io immagino anche Catania che sicuramente sia a Firenze si giocherà forse le piazze per la retrocessione anche in diretta non lo so perché poi anche loro hanno sempre stupito anche come l'Astra, ora Honda ha sempre stupito negli ultimi anni per avere squadre che poi rendevano di più di quello che facevano vedere sulla carta quindi anche verso il basso sarà molto difficile e per una squadra come noi andare a prendere punti in giro sarà dura tenendo conto anche che noi l'anno scorso per esempio il fattore caldo l'abbiamo avuto pochissimo quindi speriamo di riottenere il fattore caldo che avevamo avuto magari nella stagione di esordio Assolutamente chiudiamo con l'ultima battuta l'esordio in campionato vi propone la proibitiva sfida di lavagna contro la Prorecco quali risposte chiedi ai tuoi in questo primo match stagionale? Sicuramente risposte di gioco sicuramente di personalità di provare a fare la partita la nostra partita ovviamente sappiamo il valore della Prorecco prenderli ora, prenderli dopo insomma hanno fatto meno preparazione hanno qualche acciacco ma il valore della squadra ai nostri occhi è sempre quello però rispetto all'anno scorso partita in casa qua per esempio vorrei personalità vorrei che noi ci provassimo in tutti i modi vorrei che se entra in acqua il ragazzino perché magari butteranno in acqua il ragazzino il ragazzino si deve vedere che è ragazzino il nostro giocatore deve far vedere quello che magari i vari cannella di Fulvio gli hanno fatto prima a lui lui dovrà rifarlo sui più deboli perché quello che non mi è piaciuto l'anno scorso nella partita contro il Recco è questo loro hanno fatto un po' quello che hanno voluto poi mettevano in acqua due ragazzini e noi quei ragazzini li lasciavamo stare ci dispiaceva fare i belli con il ragazzino invece bisogna giocare i ragazzini impareranno a difendere come i nostri spero che imparino a difendere sui fenomeni che hanno loro va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Federico Mistrangelo per essere intervenuto do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Federico grazie grazie a te grazie